Ciao, 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 ciao Sono Alessandro, Piero, Agostino Pellegrino, Elisa, sono Roberto Radisa, sono Francesca, Claudio, io sono Lucilla, Noveglio, sono Roberto Veleo, sono Alessandro, mi chiamo Chiara Carulli, Giacomo, Ranapoli, Polizio Abbiamo una missione da compiere e ci serve il tuo aiuto Perché altrimenti siamo fregati Ciò che vogliamo realizzare è un sogno Finché non si possa più dire me ne vado dal sud perché qui non c'è niente Assieme a un branco di scalmanati abbiamo deciso di fondare una squadra Vogliamo realizzare e costruire un futuro prossimo migliore L'intento è di creare condivisione Vogliamo realizzare un polo culturale che fa ricerca e didattica Dove si incontri il privato e il pubblico Applicato all'industria e all'artigianato, digitale e non Un luogo di innovazione tecnologica e sociale In cui la condivisione diventi una bandiera Noi crediamo che l'educazione farmi il futuro La scuola open source è prima di tutto una comunità È una fortunata combinazione di idee e persone Siamo artigiani digitali, designer, maker, artisti, sognatori, innovatori La scuola open source si occupa di ribaltare il paradigma educativo Accogliamo idee, persone e progetti per condividere spazi, conoscenze e valori E soprattutto vogliamo che questo cambi il mondo Siamo stati ammessi alla fase 2 Servendo che fare Da 700 progetti Siamo tra i 40 selezionati Soltanto 3 vinceranno Ciascuno dei progetti vince 50.000 euro al fondo perduto La nostra turma ha bisogno di te Abbiamo bisogno del tuo sostegno Con un voto sul sito di che fare Passerà a registrarvi sul sito ed esprimere la vostra preferenza Serve il vostro voto L'innovazione esterna, social, antispipulazione, miglioranza degli altri